Il nostro laboratorio è progettare e costruire. E costruire. Abbiamo unito la E di progettare con la CO di costruire, dando valore al termine ECO. Questo perché è la nostra mission, quella di fare tutto ciò che possa essere biosostenibile anche nel campo della progettazione e della costruzione. Infatti io mi occupo di bioarchitettura e invece qui Romeo si occupa di costruzione, ma non parliamo soltanto di costruzione in sé, è qualcosa di più. Sì, usiamo materiali naturali, tipo la paglia, poi usiamo legno, canne, terra, calce, tutto quello che è accessibile alla via edilizia. Ci sentiamo un po' in maniera ambiziosa degli eroi in questo, perché attraverso questo laboratorio vorremmo far sì che tutti i partecipanti, e sono tantissimi, iniziassero a pensarla come noi. Ecco perché proponiamo un... Il messaggio è quello. Sì, il messaggio è questo. Di diffondere un'alternativa al cemento, alle materiali tradizionali. All'interno di questo laboratorio abbiamo Barbara Jones, che è sicuramente la massima espressione, io osi ridire, a livello mondiale. Per quanto riguarda l'utilizzo di materiali naturali come la paglia nell'ambito edilizio. Lei è una grande maestra, lo è già stata per tanti altri professionisti e costruttori che oggi stanno realizzando costruzioni in valle di paglia. E a noi fa molto onore che presto lo sarà anche per noi, per noi e per tutti i partecipanti all'interno di questo laboratorio. Sono stata molto contenta che Stefania mi abbia contattato, ma ero molto occupata, quindi lei ha persistito, ha insistito molto, nonostante sia stato molto difficile, e nonostante tutti i miei impegni alla fine ce l'ho fatta. Sapevo che l'interesse per questo argomento era abbastanza rilevante, ma non lo immaginavo così tanto. Questo è sicuramente un'attestazione di tutto il lavoro fatto da Stefania e dal suo team, e quindi sono molto contenta e soddisfatta di questo. L'interesse è mostrato e profuso in questa materia, sicuramente porterà anche dei cambiamenti nella legislazione. e quindi non potrà che essere il futuro di questo campo. Ringrazio gli italiani per quanto sono amichevoli, per quanto sono ospitali, per tutto quello che ci hanno offerto, per i prodotti naturali, delle olive, delle ciliegie, tutto quello che hanno e che possono offrire, quindi non posso che ringraziare tutti. Grazie a tutti!